carissimi amici del canale youtube dentro la notizia dopo che gli stati uniti sono tornati in mano ai globalisti nei modi che sappiamo rimangono pochi ostacoli all'introduzione di un nuovo ordine mondiale e il prossimo avversario dell'elite mondialiste non poteva che essere putin difatti appena insediato biden o meglio l'apparato facente capo al cfr di rockefeller si è subito dimostrato assai aggressivo nei confronti della sovranità della russia diamo ora un'occhiata a quanto riferisce in vari articoli sputnik le relazioni tra russia e usa saranno difficili con l'amministrazione biden ad affermarlo è il consigliere alla sicurezza nazionale della casa bianca jake sullivan le relazioni tra russia e stati uniti saranno difficili con l'amministrazione biden in quanto i due paesi devono condurre colloqui seri e dettagliati su una serie di sfide minacce nucleari che non rientrano nell'accordo new start ha detto ieri venerdì 29 gennaio il consigliere per la sicurezza nazionale della casa bianca jake sullivan sulla russia sapete il presidente biden adotta un approccio pratico chiaro e deciso su queste relazioni sarà impegnativo e difficile perché la russia pone minacce su varie dimensioni e parte della nostra eredità ha detto sullivan il consigliere ha sottolineato che la nuova amministrazione desidera avere colloqui sulla stabilità strategica con mosca ma continuerà ad opporsi al comportamento aggressivo notate salivan afferma che la russia pone minacce e ha un comportamento aggressivo davvero c'è chi crede a questo le parole di salivan sono un brutto segnale un segno che l'amministrazione biden si prepara ad uno scontro con la russia non è solo un nostro pensiero lo confermano le successive parole di salivan che afferma dovremmo riuscire ad imporre prezzi e conseguenze per il comportamento aggressivo e le minacce della russia agli stati uniti e ai nostri alleati e allo stesso tempo essere in grado di avere seri e credibili colloqui su questioni difficili di stabilità strategica la russia minaccia gli stati uniti e tiene verso di loro un comportamento aggressivo e da quando le minacce di salivan rappresentano invece una vera e propria aggressione ripeto ciò che ha detto dovremmo riuscire ad imporre prezzi e conseguenze per il comportamento aggressivo e le minacce della russia agli stati uniti così biden sta preparando il terreno per il prossimo attacco a mosca e attenzione non è bastato che il presidente vladimir putin abbia firmato martedì la legge sulla ratifica dell'estensione del trattato new start per altri cinque anni per dimostrare le sue intenzioni pacifiche no putin viene ancora definito un aggressore per quale motivo non si sa queste accuse di salivan ci ricordano la vecchia politica del deep state ingerente negli affari altrui e guerra fondaio altro che premio nobel per la pace ad ogni modo l'accordo firmato il new start è in vigore dal 2011 e sarebbe scaduto il 5 febbraio è l'unico accordo legalmente vincolante sul controllo degli armamenti nucleari tra russia e stati uniti i due paesi che possiedono il maggior numero di armi nucleari nel mondo l'accordo si basa sulla proposta che ciascuna parte riduca il proprio arsenale nucleare a 700 missili 1550 testate e 800 lanciatori il new strategic arms reduction treaty appunto new start è l'ultimo trattato sulla riduzione delle armi nucleari firmato da stati uniti e russia ancora in vigore dopo l'uscita statunitense dal trattato inf ricordiamo che donald trump insisteva sull'elaborazione di un nuovo accordo che includesse anche l'altra potenza nucleare la cina oltre a russia e stati uniti perché se vengono limitate le testate nucleari di russia e stati uniti ma la cina è libera di ampliarle a dismisura è logico che diventerà la prima potenza nucleare al mondo ed è quello che ha ottenuto biden escludendo dall'accordo l'impegno di xi jinping complimenti altro episodio che testimonia le intenzioni aggressive dell'amministrazione biden è il seguente il presidente degli stati uniti joe biden ha invitato il suo omologo russo vladimir putin a rilasciare il blogger alexei navanni lo ha detto venerdì il portavoce della casa bianca james saki sì come abbiamo detto pubblicamente il nostro team ha ripetutamente chiesto il rilascio di navanni nel corso delle ultime settimane ha detto psaki durante un briefing quotidiano alla domanda se biden abbia specificamente invitato putin a rilasciare navanni ricordiamo che navanni è stato arrestato al suo arrivo mosca dalla germania il 17 gennaio per aver violato le condizioni di libertà vigilata per una precedente condanna per appropriazione indebita nonostante questo l'ingerenza dell'amministrazione biden negli affari russi pare essere solo all'inizio un atteggiamento che difficilmente andrà giù a putin prepariamoci quest'altro articolo a firma di giulio virgi fa notare alcuni particolari leggiamo non tutti gli uomini e le donne che trump aveva chiamato a eseguire le proprie politiche erano in realtà in sintonia con il presidente che non a caso alla fine aveva avvocato a sé la gestione dei dossier più sensibili fra i quali quello delicatissimo dei rapporti con la russia rispettare le sovranità era funzionale anche ad un progetto di stabilizzazione da sviluppare ad ampio raggio del quale i cosiddetti accordi di abramo raggiunti in medio oriente erano probabilmente solo il primo passo ebbene di tutt'altro avviso appare biden continuiamo la lettura stando a quanto sia preso dalla portavoce della casa bianca james saki durante la prima conversazione telefonica intercorsa con il presidente vladimir putin biden avrebbe stigmatizzato il tentativo di avvelenamento del blogger il suo arresto al momento del rimpatrio e le violenze verificatesi alle dimostrazioni indette per ottenerne la liberazione poco prima di questo contatto la diplomazia russa aveva lamentato come una forma di sostegno indiretto alle proteste la circostanza che sul sito dell'ambasciata statunitense a mosca fossero stati pubblicati luoghi ed orari delle principali manifestazioni in favore di navanni è quindi palese che un cardine della politica estera trampiana è già venuto clamorosamente meno una breve nota ritengo abbastanza logico pensare che se putin avesse voluto far avvelenare navanni i servizi segreti russi non avrebbero mancato l'obiettivo d'altra parte navanni cerca di destabilizzare la russia promuovendo l'agenda dell'elite come per esempio il matrimonio tra omosessuali ma non solo continuiamo la lettura comunque per quanto mike pompeo avesse spesso criticato con forza il comportamento tenuto sul darsante interno da alcuni importanti interlocutori degli stati uniti trump aveva sempre cercato di astenersi dalle forme più invasive di interferenza nella sovranità nazionale altrui ecco appunto quello che alcuni spesso attribuiscono all'ingerenza degli stati uniti negli affari degli altri paesi in realtà sarebbe più corretto dire ingerenza e atteggiamento guerra fondaio del deep state lo stato profondo americano il cui cuore come abbiamo visto anche ieri è il cfr di rockefeller ma l'interferenza della cupola non è finita qui continuiamo a leggere durante la sua telefonata a putin biden avrebbe esplicitato anche alcune linee rosse alle quali la russia dovrebbe attenersi nei confronti dell'ucraina non è mai bello quando qualcuno viene a comandare in casa tua noi italiani lo sappiamo molto bene è il tipico e solito atteggiamento della cupola dell'unione europea passiamo al capitolo cina la jelen che ha assunto un ruolo di primo piano nella nuova amministrazione si oppone al nazionalismo economico e molti stakeholders che hanno sostenuto il candidato democratico alla casa bianca sono interessati alla rimozione degli ostacoli tariffari introdotti da trump tanto per indurre pechino a trattare sul riequilibrio degli scambi reciproci quanto probabilmente per rallentarne lo sviluppo a lungo termine la stessa black rock che ha dato diversi manager alla squadra di biden sta suggerendo neanche troppo velatamente di tornare a investire nella repubblica popolare la sensazione è che nei rapporti con pechino l'america sia di fatto disponibile a compromessi chiaro no gli scenari mondiali sono decisi da black rock e dall'elite finanziarie e si sa hanno scelto biden perché ha intimi legami con la cina quindi non facciamoci ingannare da eventuali e assai probabili schermaglie tra stati uniti e cina la vera battaglia è tra nuovo ordine mondiale e nazioni sovrane e al momento il più potente oppositore al mondialismo appare putin che a differenza di trump ha avuto tre decenni a disposizione per consolidare il suo potere e tenere a bada il deep state quindi la partita si gioca tra stati uniti e russia con alleati a fare da contorno e chissà che questo sia proprio lo scontro finale di cui parla il capitolo 11 del profeta daniele prima di concludere volevo ringraziare gli amici della bife international una delle innumerevoli piccole e medie aziende del made in italy di successo che consiglia c querzine un integratore innovativo che associa vitamina c quercetina e zinco per il buon funzionamento del sistema immunitario la vitamina c contenuta in c querzine è una formulazione a rilascio prolungato la quercetina protegge la vitamina c dall'ossidazione e ne favorisce l'assorbimento lo zinco piccolinato contenuto in c querzine è la forma più biodisponibile la bife quando ha saputo che youtube ci ha privato degli introiti pubblicitari e degli abbonati ha deciso di dare anch'essa un contributo a favore della libertà di tutti gli italiani carissimi amici del canale youtube dentro la notizia un vivo ringraziamento a tutti voi che aiutate con le vostre donazioni la libera informazione a tutela del popolo senza il vostro aiuto di cui vi siamo profondamente grati non potremo crescere e migliorare il nostro servizio informativo chi fosse interessato a sponsorizzare la propria azienda su questo canale può contattarci tramite le mail in descrizione grazie ancora del vostro sostegno e per la condivisione dei video più siamo più forza avremo uniti si vince un abbraccio dal vostro robie